Musica Aveva centinaia di scritti le due sedi della scuola paritaria alla quale la Guardia di Finanza di Acropoli ha posto i sigilli in queste ultime ore. Dei veri e propri diplomifici, una a Laurena, Cilento, e l'altra a Ceraso, sempre in provincia di Salerno. Su queste basi i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Acropoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno posto sotto sequestro le sedi scolastiche gestite da due fratelli, entrambi indacati per il reato di falso ideologico, continuato, commesso da pubblico ufficiale nella produzione di certificati amministrativi. Si tratta di un istituto tecnico per ragionieri e geometri paritario, mediante il quale, a seguito di articolate indagini di polizia giudiziaria che traggono origini dall'esecuzione di precedenti verifiche fiscali nei confronti delle società riconducibili e i due indagati, hanno sottratto al fisco oltre 3 milioni di euro e oltre 600 mila euro di mancate ritenute sulla ritribuzione dei quasi 50 dipendenti, tra insegnanti, personale ate e parascolastico. Già nelle mese di marzo erano state condotte delle perquisizioni che avevano portato a scoprire classi completamente vuote a fronte di nessuna assenza segnata sui registri. 18 classi vuote non solo di alunni, ma anche di docenti, ma venivano tutti portati regolarmente presenti. Dei quasi 400 iscritti all'Istituto Fantasma, 260 avrebbero dovuto sostenere la maturità nel prossimo mese di giugno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.